I processi educativi ai fini di una sana e corretta alimentazione possono passare anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle esperienze ormai in fase di consolidazione delle fattorie didattiche. Il processo di conoscenza dei prodotti tipici locali e poi l'ulteriore valore aggiunto che può agire in maniera indiscindibile fra i due elementi. Questi i temi affrontati nel corso di un duplice convegno svoltosi nella sala conferenze Valle dei Margi di Granmichela, al quale hanno preso parte esperti del campo nutrizionale e scientifico. L'iniziativa è stata promossa dal dirigente della suota di Caltagirone, Carmelo Nicotra. La Sicilia è la culla della dieta mediterranea, il calatino è ricco di eccellenze di agricoltura, dall'arancia rossa al fico d'India, al vino cerasolo di Vittoria, alla DOP eccetera. Però si assiste in Sicilia un aumento eccessivo dell'obesità e la Sicilia è la maglia nera dell'obesità infantile, così come un aumento anche delle malattie alimentari. Quindi è una contraddizione forte su cui oggi abbiamo voluto riflettere e aprire una discussione, discussione che poi proseguirà nella programmazione della nostra attività con l'Orta Scuola, perché vogliamo riavvicinare gli studenti e i ragazzi alla terra, alla cultura, alle tradizioni, al ciclo biologico, per migliorare quindi un'educazione agroalimentare, un'educazione all'ambiente, alla sostenibilità dell'ambiente. Il principio di una sana alimentazione è dunque possibile, specie in età scolare, così come testimoniato dalla professoressa Lucia Frittitta, medico endocrinologo all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania ed esperta nel campo dell'obesità infantile. Innanzitutto iniziare bene la giornata e quindi la prima colazione è il momento più importante dell'alimentazione di un bambino o di un ragazzo. Possibilmente ad esempio la colazione con il latte, con una fetta di pane, anche con la marmellata, oppure dei cereali. E poi successivamente anche a scuola ad esempio portare un frutto, perché questi sono i cibi migliori per mantenere poi un corretto stile di vita. L'altra cosa importante che bisogna sottolineare è anche l'importanza dell'attività fisica, quindi il bambino e il ragazzo ha bisogno di muoversi. L'iniziativa si avvalsa dal ruolo di compartecipazione della stazione sperimentale di granicoltura della Sicilia, che è sede a Caltagirone, da anni impegnata nel lavoro di ricerca delle migliori varietà dei frumenti. A spiegare l'importanza dell'utilizzo dei lieviti naturali rispetto al tradizionale lievito di birra, e la professoressa Cristina Restuccia, ricercatrice all'Università di Catania. Abbiamo voluto un po' puntare l'attenzione sulle benefici che apporta l'impiego del lievito naturale rispetto al lievito di birra nei prodotti da forno. Sono veramente innumerevoli gli aspetti positivi legati proprio all'impiego di questa antica tradizione, sia sugli aspetti qualitativi, in termini di conservabilità e di caratteristiche sensoriali, sia in termini nutrizionali, perché i prodotti ottenuti con lievito naturale hanno un impatto positivo sulla salute del consumatore. Un terzo elemento affrontato nel corso della discussione è stato quello legato all'utilizzo delle farine speciali, a loro volta ricavate da cereali selezionati e appositamente studiati in laboratorio. Da qui la testimonianza di Francesca Verbello, esperta nella creazione di farine speciali. Ho presentato oggi questa tecnologia che viene applicata sulla crusca di grano, è un processo enzimatico che rende maggiormente biodisponibile la fibra solubile, andando a eliminare la parte insolubile che spesso è fonte di irritazioni, di coliti, di problemi intestinali. E quindi abbiamo ottenuto una farina bianca che va incontro comunque al gradimento della maggior parte della popolazione, compresi i bambini, ma che ha un contenuto di fibra solubile superiore del 20% rispetto ad un integrale, una farina integrale classica, e un contenuto di acido ferulico con potere antiossidante superiore del 10% rispetto a una farina integrale. E quindi il risultato è quello di andare incontro appunto al gradimento del grande pubblico, fornendo però un prodotto che non ha tutte le problematiche che la farina raffinata genera, di aumenti di picchi glicemici e di creare situazioni di smetabolismo che oggi purtroppo sono molto diffuse. E infine, quanto all'esperienza delle fattorie didattiche, un ulteriore contributo alla giornata è stato offerto dalla preside dell'Iceo Classico Seguso di Caltagirone, Concetta Mancuso, che guarda favorevolmente a questo progetto. La scuola ha un ruolo fondamentale per una corretta educazione alimentare. Bisogna lavorare molto per sperimentare all'interno delle istituzioni scolastiche momenti in cui si fa sperimentare ai ragazzi come fare la colazione o la merenda ideale, l'importanza di non alimentarsi con merendine preconfezionate o con succhi di frutta che non contengono assolutamente frutta se non in minima parte, ma l'importanza per esempio di alimentarsi con cibi genuini, pane, biscotti fatti in casa, torte, pizze. È importante anche riscoprire la validità delle nostre spremute di arancia o le macedonie di frutta fatte in casa. Tutto questo la scuola lo può fare se attiva una collaborazione con le famiglie, si attiva una collaborazione anche con gli esperti del territorio che si occupano di queste problematiche. È molto importante la diffusione che sta avvenendo in Italia delle cosiddette fattorie didattiche. Una fattoria didattica è un luogo dove i bambini o anche i giovani possono andare per rendersi conto direttamente delle modalità di produzione agricola di prodotti biologici. Grazie a tutti.